Direttore dei Monopoli di Stato, Marcello Milano, maggiore di direttore. Direttore, cerchiamo di rendere anche un po' pratico tante cose che sono state dette oggi, che è un convegno di altissima qualità, c'era il godo del gioco, tanti polizi, un convegno che basta molto levato e questa è una cosa molto bella perché anche oggi è il settore che ne è tacciato proprio del contrario. Ci sono dei gettisti che si chiedono nel gioco, cioè che si sono dati in un tempo limite, quanta cosa ci si può aspettare? Ma guardi, l'Agenzia delle Docane e dei Monopoli ha completato le sue attività, quindi ora l'impulso deve essere della politica e ovviamente del governo per dare, qualcuno direbbe, il là. Il nostro confronto però, ripeto, con l'industria è completo e le idee, insomma, le abbiamo e siamo pronti a metterle in atto. Senta, lei ha fatto anche i numeri dell'attività di contrasto alle illegalità, da qui a fine anno, siamo previsti altre operazioni, ovviamente senza svelarle, però proseguirà con un appuntamento importante? Assolutamente sì. Copriremo tutto il settore nazionale mobilitando tramite il coprevi, penso, 2-3 mila funzionari e rappresentanti delle forze di polizia per garantire un contrasto efficace al gioco, come dicevo prima, illegale ma anche legalmente vestito. Senta, l'ultima cosa, lei si è esposto qualche tempo fa sulla gara dell'online dicendo che forse dovrebbe essere meglio allargare un po' la platea e tutto quanto, e ancora di questa idea c'è possibilità che questo avvenga? Il mio parere rimane lo stesso, nel momento in cui la rete internet e come funziona è giusto allargare la platea dei soggetti e ridurre le parierie all'entrata, però anche su questo c'è una legge e quindi bisogna vedere il Parlamento e il governo come per l'avvocato. Dottore, grazie ancora.